Non è certo la pandemia con le relative restrizioni a poter fermare il cuore infinito degli alpini. Nell'anno in cui la sezione di Bergamo dell'Associazione Nazionale Alpini festeggia il centenario di fondazione, le penne nere hanno promosso in Val Gandino ed in particolare a Cazzano Sant'Andrea la consegna delle uova pasquali ai bambini delle scuole materne. Il locale Gruppo Alpini, come mostrano le immagini registrate alcuni anni fa, non è nuovo iniziative come questa. Naturalmente tutto è stato predisposto secondo le norme legate al Covid, con qualche alpino che non ha trattenuto la commozione sotto la mascherina d'ordinanza nel vedere la gioia spontanea dei tanti bambini costretti alla zona rossa a rinunciare anche all'attività scolastica. A Leffe i bambini della scuola materna Cerioli hanno ritirato l'uovo senza contatti diretti, mentre a Cazzano Sant'Andrea i volontari del locale Gruppo hanno consegnato l'uovo a domicilio a tutti i ragazzini della materna parrocchiale. In quest'ultimo caso le uova hanno da diversi anni lo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione Maria Letizia Verga contro la leucemia. I cinque gruppi alpini della zona 15 Val Gandino, coordinatore Giovanni Battista Colombi, comprendono complessivamente dati 2020, 449 alpini e 121 amici degli alpini. Così suddivisi Casnigo 73 alpini 18 amici, Cazzano Sant'Andrea 37 alpini 16 amici a Gandino, 224 alpini e 41 amici alle F62 alpini e 20 amici. Chiude Peia con 53 alpini e 26 amici.